Offrire un avvocato a un minore che si ritrova coinvolto in un processo penale, registrare gli interrogatori con una telecamera e preparare un esame medico e sociologico del giovane sono alcune delle garanzie offerte d'ora in poi nella nuova direttiva sulla protezione dei minori. Abbiamo incontrato la relatrice per l'Europarlamento, Caterina Chinisci. Buongiorno, la prima direttiva che intacca davvero il diritto penale degli stati riguarda la protezione dei minori, ce n'era veramente bisogno? Beh sicuramente, intanto perché è un documento che comincia a costruire quello spazio di giustizia europeo al quale tutti guardiamo e poi perché è un documento, diciamo un documento legislativo che tende a uniformare le procedure per i reati commessi dai minori in maniera quanto più possibile condivisa fra tutti i paesi membri, quindi sicuramente ce n'era bisogno. Allora noi siamo andati a raccogliere delle domande che vengono dalla società civile, da esperti della materia. La prima domanda viene da un'associazione olandese perché l'Olanda, se non mi sbaglio, è uno dei paesi che dovrà adeguarsi parecchio a questa direttiva. Allora ascoltiamola insieme. Tutta la direttiva è stata concepita per dare concretezza al principio del superiore interesse del minore. Nel procedimento penale devono essere assicurate al minore tutte le garanzie, non solo quelle strettamente procedurali, ma anche quelle connesse alla condizione del minore di particolare vulnerabilità. E quindi l'assistenza del difensore è stata concepita come un diritto fondamentale. Però sono previste anche le deroghe perché è chiaro ed è comprensibile che laddove si tratti di reati per esempio di minore gravità, allora si può adottare una procedura che sia diversa e che quindi non richieda necessariamente la presenza del difensore. Abbiamo un'altra domanda e poi intervengo che viene dalla Germania. Frau Abgeordnete Kinici, unter Verteidigerinnen und Verteidigern in Jugendstrafverfahren gibt es die Befürchtung, dass eine allgemeine Pflicht zur audiovisuellen Vernehmungsdokumentation auch einen Eingriff in Persönlichkeitsrechte darstellen könnte. Stimmen Sie mir zu, dass etwa beim Vorwurf des Diebstahls eines T-shirts die Herstellung eines solchen Videofilms auch ein Nachteil für junge Beschuldigte sein könnte? Intanto la audiovisoregistrazione è prevista nella fase delle indagini e non davanti al giudice. è prevista con delle modalità tali proprio da non creare disagio nel minore. E poi c'è un'altra garanzia che è stata inserita sempre per i minori che si dovrà avviare una valutazione personale, quindi dal livello sociale da cui proviene il ragazzo ma anche addirittura una valutazione medica nel caso in cui il minore si è sottratto alla libertà quindi si trovi in prädgione. C'è un po' comunque questa impressione che per far bene si sia voluto far quasi troppo. Ma guardi, la valutazione personale è fatta proprio in funzione di dare gli strumenti al giudice gli strumenti di conoscenza della situazione del minore per individuare sia nel corso della procedura sia poi a conclusione la misura più adeguata per quel minore. Bene. L'ultima domanda viene da un giudice in Polonia. Allora, è possibile? Ci sono dei paesi dove la maggiorità si raggiunge più tardi o più presto. Cosa prevede questa direttiva? La maggiorità si applica quando il minore commette, quando il giovane commette il reato da minorenne anche se nel frattempo poi durante il corso della procedura supera la minorità, diventa maggiorenne. Anche questa è una garanzia ed è una garanzia importante. Io posso dire che proprio nella mia esperienza di magistrato per tanto tempo, fatta per tanti anni, ho potuto verificare come quel processo di rieducazione che si inizia quando il ragazzo per esempio è ancora minorenne si interrompe bruscamente, come dire, disperdendo il lavoro che già è stato fatto se per esempio dal carcere minorile viene trasferito nel carcere per gli adulti. Caterina Chimici, grazie. Grazie, grazie a lei. Grazie.